Era arrivato praticamente al traguardo, come tante altre centinaia di volte in passato, ma a pochi metri dall'arco d'arrivo di Piazza della Rinascita, dove ieri si stava concludendo la quattordicesima edizione della Maratona Danunziana di Pescara, si è improvvisamente accasciato a terra. È morto così intorno a mezzogiorno davanti a centinaia di podisti e spettatori Duilio Fornarola, 82 anni e una grande passione per l'atletica. Era stato tra i fondatori della società dilettantistica Lupi d'Abruzzo di Atessa. Duilio, originario di Penne, molti anni fa si era trasferito nel sangro con la famiglia. Ieri la tragedia. Fatale, forse un malore. Probabilmente un infarto. I soccorsi tempestivi nulla hanno potuto. I medici sul posto e poi i sanitari giunti dall'ospedale si sono prodigati in ogni modo con l'uso del defibrillatore e le manovre rianimatorie, ma tutto è stato purtroppo vano. Duilio caricato in ambulanza e spirato durante il trasporto in ospedale. In tanti hanno sperato che quel grande cuore di atleta potesse tornare a battere. La tragedia ha colpito tutto il mondo dell'atletica dove Duilio Fornalora era conosciutissimo. L'82 anni aveva partecipato a tante manifestazioni. Avrebbe dovuto prendere parte anche alla maratona di New York in programma fra poco. E in America era già stato a correre tante altre volte, così come aveva fatto in Abruzzo. Una grande passione che questa volta lo ha però tradito. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che aveva partecipato ieri alla corsa, ha sperato in un miracolo. Tutta la giunta comunale si è stretta intorno alla famiglia Fornarola, così come la UISP Abruzzo e Molise e le tante società partecipanti alla maratona d'Annunziana.